Come abbiamo visto con Francesco nelle scorse puntate, il cloud può essere utilizzato per diversi servizi. Oggi vediamo come può essere utilizzato un centralino in cloud e le differenze con un centrino TDM. La grande differenza tra un sistema TDM e un centrino in cloud sono che i centralini tradizionali hanno bisogno di un'infrastruttura dedicata, quindi un cablaggio, dove bisogna applicare i telefoni e quant'altro, mentre un centralino in cloud, quei telefoni VoIP, letteralmente VoIP di Internet Protocol, utilizzano di base Internet. Un classico sistema telefono TDM ha la possibilità di collegare ogni singolo telefono su una singola presa disponibile, con i vari servizi di trasferimento di chiamata, segreteria telefonica, servizi DECT e quant'altro a un servizio di base. Invece i servizi VoIP hanno la possibilità di collegare un qualsiasi terminale o utilizzando qualsiasi apparecchio, smartphone o PC, basta che c'è una connettività Internet. Come detto, visto che ogni telefono o PC può essere collegato a Internet per poter utilizzare il telefono da VoIP, dovunque noi siamo, possiamo poter essere collegati al nostro sistema aziendale, anche a 1000 km di distanza dal nostro ufficio.